Questa gara fa parte di quelle partite appunto del sorpasso, qui giochiamo col Napoli, che in Napoli giocavano anche loro per lo scudetto, andammo sotto di 1-0 gol di José Altafini e poi feci due gol io, ma il primo su rigore credo e il secondo rischiai la vita, nel senso che su un calcio piazzato di corso non vidi la scarpa di Panzanato, ma lui mi ha detto che era fine corso, lo anticipai di testa e feci gol anche con un po' di colpa di Dino Zoff che si fece sfuggire il pallone. Questo è un rigore, diciamo, così così, che il Napoli si lamentò molto, però, insomma, quando il rigore è dato ha fischiato l'arbitro, vedi che José si lamenta e poi voleva che il rigore fosse ripetuto. Ecco, questo è il gol di testa con la solita punizione di corso, però rischiai veramente di prendere una scarpata in faccia, ma devo dire la verità che il piede di Panzanato non lo vidi. Cioè, l'ho anticipato, ecco, più che altro, ma lui mi disse dopo, guarda che era a fine corsa la mia gamba, non t'è...